Ciao a tutti e benvenuti o bentornati finalmente in un nuovo video, il primo video del 2023. Oggi sono a casa perché ho un po' di influenza, infatti se mi sentite parlare con una voce strana è per quello. E quindi, visto che ho un po' di tempo, ho deciso di girarvi il video dei prodotti finiti per viso e capelli. Ho diviso viso e capelli e corpo, lo farò in un altro video perché ho perso il conto di quanti mesi sono che non giro più questo video, credo 4 o 5. E quindi ho veramente un sacco di cose, perciò ho deciso di dividerlo in due video. Qui c'è il cestino, che non ci sta nell'inquadratura, dei prodotti finiti, viso e capelli e quindi parto col farvi vedere questi. Ma prima di partire vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al canale e di lasciarmi un bel like se il video vi è piaciuto. E detto questo possiamo partire. Allora, partiamo dai capelli che dovrebbero essere sopra. Ho finito questo shampoo, nutrimento intenso, non so se si vede perché è trasparente, con olio ricco di jojoba. Ora, capelli molto secchi e a tre goccioline, questo mi è piaciuto un sacco perché io ho i capelli biondi, decolorati e quindi sono molto secchi. E questo mi è piaciuto tantissimo, non serviva neanche quasi il balsamo, anche se io lo metto comunque balsamo o maschera. Però, veramente i capelli morbidi e non con tanti nodi come al solito con altri shampoo. Quindi questo super approvato. Credo già di averne un altro nelle scorte. Poi, butto intanto nella plastica. Altro shampoo, ultra dolce nutriente della Garnier. Gli oli meravigliosi, argane e cameglia, capelli secchi e spenti. Anche questo un buono shampoo, ma quello di prima mi è piaciuto ancora di più. Comunque, anche questo ce l'ho già di nuovo nelle scorte, quindi approvato per i capelli secchi. Poi, altro shampoo. Questo l'ha usato Alex. Nuovo shampoo, sebo regolatore, ortica, capelli grassi. Non mi ha detto niente, non si è lamentato, perciò quando non mi dice niente e non si lamenta, vuol dire che gli è piaciuto. Poi, ultimo shampoo, credo. Questo ce l'avevo aperto da un sacco di tempo. Argane e Orange Blossom. Questo era una linea del Lidl, della Botanic Garden, della Sien. Buono, ho già usato i due confezioni. Questo è il secondo che uso, erano 400 ml. Oh, scusate, ma ora a freddore mi viene il fiatone a parlare. Comunque. Un buono shampoo, però non mi lasciava i capelli districati e morbidi come i due di prima. Però, se non avete i capelli super secchi, è un buono shampoo, va bene. Poi, è molto conveniente perché sono 400 ml e mi sembra che costava sui 2,50 euro, forse. Poi, maschera rigenerante al cocco, della Near Your Body. Questa qui, presa al Near Your Body e Eurospin. Sì, Eurospin, pagata pochissimo, sotto di 2 euro. È molto buona, districante per capelli secchi e sfibrati. Ed è vero, quando la usavo mi lasciava i capelli morbidissimi e super districati, che una passata di spazzola andavano via tutti i nodi. Veramente buona. Sono, è un sacco questa, 500 ml. Ecco, io mi scrivo anche quando le apro le cose. Mezzo litro di maschera. Super buona. Poi, questa testa nera è una maschera, mi sembra. Con cheratina liquida. Cappelli spenti e sciupati. Ecco qua. Anche questa è una buona mascherina, niente di che. Me la sono portata, mi sembra, in vacanza questa. Non districcante come quella di prima, però buona. Poi, altra cosina per i capelli. Questo è di Balea. Vediamo dietro. Balea, latte idratante per capelli. Ha il profumo di cocco per capelli secchi e danneggiati. Io questo lo usavo dopo lo shampoo, quando avevo tamponato i capelli con l'asciugamano. Mettevo un po' di questa sui capelli e poi li pettinavo, ma non mi sembra che faceva chissà che per... Cioè, i capelli sì, rimanevano morbidi, però non mi aiutava più di tanto nel pettinarli. Comunque, mi sembra che non dice... Sì, facilmente pettinabili. Lo dice, ecco. Facilmente pettinabili, non tanto, però lasciava i capelli morbidi. Ed è quanto? 200 ml. Aperta il 2 luglio. Poi, ha ancora uno shampoo, che però non ho usato come shampoo. E qui c'è il cartellino, l'avevo preso all'Eurospin. Non ho usato come shampoo, miele e avena. Dal potere nutriente e emolliente. Nutre la cute e i capelli. Ottima azione detergente. Lascia la chioma nutrita e lucente. No, secondo me questo shampoo andava bene per chi aveva i capelli... Se sentite il rumore, intanto sono i cagnolini che stanno facendo la lotta e stanno facendo casino. Questo shampoo, secondo me, andava bene per chi aveva i capelli grassi. Perché io l'ho usato due volte. Dopo che l'ho sciacquato, mi sembrava di avere veramente una scopa di saggino in testa. I capelli secchissimi, ma veramente secchissimi. E quindi ce n'è ancora un goccino, ma non veniva più giù. L'ho usato come... L'ho messo nel contenitore per lavarmi le mani. E quindi l'ho finito così. Poi... Questo di Nashi. Questo l'ha usato Alex. Trattamento di bellezza per tutti i tipi di capelli. Mi ha detto di dirvi che si è trovato bene. Che gli ha rinforzato leggermente i capelli. E si è trovato molto bene. Questo l'aveva preso dal suo parrucchiere. Sei mesi di Pau. Quanti ml? 100 ml. Ora, non so quanto l'abbia pagato, ma... Lui dice che si è trovato bene. Infatti ne ha già ripreso un altro. Poi... Questo balsamo, ve l'avevo già fatti vedere altri di questi tubetti. Sono quelli che si trovano nelle tinte dei capelli. E' buono. E' abbastanza districcante. Mi trovo bene con questi tubettini. Poi... Questa maschera per i capelli della Sien. Quindi del Lidl. Con cheratina e... Boh, non so che cosa sia. Vediamo l'italiano. Ecco qui. Per capelli ad effetto ricostituente con amminoacidi della seta. No. 20 ml. Non mi è piaciuta per niente. Puzzava. Aveva un odore... Sgradevole. E... Non ha fatto assolutamente niente. Come non metterla? Ne ho altre due. Devo poi provarle. Per i capelli... Ancora questa cosina qui. Che l'avevo preso su quel sito Nesh Beauty Lab. Detox Skin Food. Un siero per i capelli. Con un buonissimo profumo di mandorla. Se non sbaglio. Aspettate che adesso ve lo dico. Sì. Ora ha freddore ma... Un po' di odore lo sento. E... Buono. Questo lo mettevo a capelli asciutti sulle punte. Buono. Mi è piaciuto. 60 ml. Poi per i capelli credo che abbiamo finito. Quindi possiamo passare al viso. Allora. Quest'acqua micellare della cera di cupra. Strucca purifica idrata. Non l'ho usata come acqua micellare. Ma l'ho messa in un... In un dispenser di quelli che fanno la spuma. E l'ho usata per lavarmi il viso. Perché... Mi bruciava un sacco gli occhi. E non struccava. Quindi... Uso alternativo. Ma non ve la consiglio. Per... Per struccarsi assolutamente no. Poi ho usato quest'acqua micellare tutto in uno che è la mia preferita di Garnier. Ultimamente sto usando sempre questa. E mi piace un sacco. Strucca bene. Non brucia gli occhi. E toglie tutto. La mia preferita. Poi... Usati questi dischetti della cotoneve. Quelli piccolini. Buoni. Non si disfavano. Normali dischetti. Poi... I miei preferiti. Questi qua del Lidl. I dischetti in cotone grandi. Questi li prendo sempre. Mi piacciono... Mi piacciono tanto. Poi... Finiti un po' di dentifrici. Ne abbiamo finiti di più ma non li ho tenuti tutti. Tanto erano simili. Biorepire. Pro White. Questi mi piacciono sempre. Tutti. Poi... Alex ha finito. Colgate. Triplazione. Pasta del Capitano. E io poi ho finito anche questo. Del Lidl. Liebe di Enatur. Dentifrici con olio di menta. Bio. Ce la fa? Ok. Estratto di aloe vera e stelvia. Senza floro. Questi due li ho usati io perché sono senza floro. E gli altri due Alex. E ci siamo trovati bene con tutti. Poi. Ah. In tema di denti. Spazzolino del Capitano. Ne abbiamo usati di più ma ne ho tenuto uno solo. Noi ci troviamo bene con questi. Scusate. E io per me lo prendo sempre forte. E ci troviamo bene. Di solito li compro da risparmio casa quando sono in offerta. Poi partiamo con i prodotti per il viso direi. Sì. Finito. Questo Skin Foodies Gel Detergente Micellare per il viso. Dalla Mela Cotogna. Con ingredienti di 90% di origine naturale. Allora. L'odore non era niente di che. Non mi ha fatto entusiasmato particolarmente. Era un gel tipo effetto bavoso e scivoloso. e quindi no. Non lo ricomprerò. Se lo troverò di nuovo a Lidl. Poi. Partiamo con le creme per il viso. Ho finito questa. Crema viso antirughe idratante. Bava di lumaca. Della Retinol Complex. Che mi sono trovata bene. Mi è piaciuta. Aveva un buon profumo. Ora se la riesco ad aprire. Ve la devo far vedere. Aveva un buon profumo. E una buona consistenza. Che si assorbiva. Wow. Io li pulisco bene i barattoli. Devo dire. Un buonissimo profumo. Si assorbiva molto bene. Buona. Una buona crema. Mi è piaciuta. Di questa ho anche il siero. Ok. Il tappo è andato. Ho anche il siero. E lo sto finendo adesso. Poi. Altra crema. Scusatemi. Questa qui del Lidl. Che avevo comprato con lo sconto. Al miele. Che normalmente mi piace un sacco. Ma purtroppo questa si vede che era andata male. Perché aveva cambiato odore. E quindi l'ho usata sul corpo per smaltirla. Però normalmente questa crema d'inverno mi piace un sacco. Se non è andata male. Ne ho ancora una nelle scorte. Devo provare ad aprirla. E vedere che sia ancora buona. Poi finita questa. 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 Sempre i cani che stanno facendo la lotta. Vitamin Glow. By Cien. Con SPF 15. Con la vitamina C. Questa era una crema abbastanza corposa. Che non si assorbiva proprio subito. Però comunque una buona cremina da usare al mattino. Poi ho finito anche una protezione solare. Questa qui del DM. Protezione solare 50. Io con creme protezione solare del DM. Mi sono trovata benissimo con quella nella confezione bianca e azzurra. Che era veramente di una consistenza. Cioè che si asciugava subito sul viso. Questa sì mi è piaciuta ma un po' più pesante. Comunque l'ho finita nel periodo un po' più freddo. Che ho la pelle un po' più secca. Quindi andava bene lo stesso. Poi ho finito. Questo che cos'è? Un campioncino di crema della Venn. Questa qui che dovrebbe essere nuova. Crema idratante. Mi sono trovata bene. Queste creme qui non hanno odore se non sbaglio. Era bella idratante. Buona. Mi è piaciuta. Poi. Un contorno occhi. Ho finito. Questo sempre è del Lidl della linea al miele. Che ho tagliato. È buono però secondo me è un contorno occhi che va bene per l'estate. Perché non è abbastanza ricco e corposo per l'inverno. Con un contorno occhi leggero per l'estate. Poi. Poi poi poi. Ho finito. Questo qui della L'Oreal. Il siero colorato. Che è l'unica cosa che uso. Io non uso fondotinta. Uso solo questo qui. E mi trovo benissimo. Mi piace un sacco. Nella colorazione 2-3 light. Adesso ne ho già uno nuovo in uso. Poi. Passiamo ai sieri. Direi. Ho finito. Questo qui. Preso in quel negozio bellissimo. Action. Con la vitamina C. Era un siero lattiginoso. Se non sbaglio. Perché. L'ho finito da un sacco di tempo. Queste cose. Magari non mi ricordo neanche tutto. Però sì. Siero lattiginoso. Con un buon profumino. Questi sono sieri che costano veramente poco. Quindi. Insomma. Fanno. Fanno quello che possono. Comunque. Un buon siero. Che si. Si assorbiva bene. Non lasciava il viso appiccicoso. Poi. Un altro siero di Action. Questo però. Mi è piaciuto meno dell'altro. Perché. Mi sembra di ricordarmi. Che mi sia piaciuto di meno. Anche questo lattiginoso. Sì. Vediamo cosa dice qui. Allora. Siero antirughe. Levigante e idratante. Con peptide antirughe. Vitamina E naturale. Applicare sul viso mattina e sera. Non ho visto grandi differenze. Con questo siero. Comunque. Andiamo avanti. Poi. Ho finito. Questo qui. In primis. Attivo puro. Collagene. Preso all'Eurospin. Anche questo. Un prezzo piccolissimo. Buono. Questo era un gel trasparente. Che si asciugava subito. Non bisognava metterne troppo. Però si asciugava subito. E lasciava la pelle. Leggermente più compatta. Poi. Anche questo. Un prezzo piccolino. Mi sembra. 3,99 euro. Poi. Finito. Questo siero. Del Lidl. Gialuron 4D. Anche questo. Un siero. In gel. Trasparente. Anche questo. Leggermente rimpolpante. Buono. Mi è piaciuto. Si asciugava subito. E non lasciava la pelle del viso appiccicosa. E poi. Ultimo siero. Ho finito. Questo di Balea. Acqua serum. Con un profumo buonissimo. Il contenitore è airless. Così che andava su. Un gel lattiginoso. Ma proprio leggero. Non credo che ce ne sia ancora. No. Proprio niente. E con un profumo buonissimo. Questo fresco. Per l'estate. Va veramente bene. E voglio poi magari. Per quest'estate. Prendermi anche la crema. Della stessa linea. E poi. Ancora una cremina. Che avevo dimenticato. Questa qui. Presa sul sito. Makeup.it. Faccial cream serum. Infatti. Era una crema. Abbastanza liquida. Con un profumo. Molto buono. Anche lei. E si assorbiva subito. Molto in fretta. Ce la faremo. Mettere a fuoco. Ce la faremo. Ok. Con papaya. Più blu retinol. Eccola qui. Molto buona. E poi. Per ultimo. Ho finito un po' di mascherine. Che. Non so se ho scritto qualcosa dietro. Vediamo. Questa qui. Presa da action. Puzza di medicina. L'ho buttata senza usarla. Fantastico. Poi. Questa qui. Altra. Presa sempre da action. Buona rinfrescante. Poi. Questa. Ehi. Basta voi due. Mettetela. Questa presa all'euro spin. Mi sembra di ricordarmela leggermente asciutta. Buttata via. Appena messa bruciava e si staccava. Ecco. Poi. Gold mask. Presa da action. Qui non ho scritto niente. Però mi sembra di ricordarmi che mi era piaciuta questa. Era tipo una maschera gel. Queste qui. Non proprio in tessuto. Mi sembra di ricordarmi che mi sia piaciuta. Poi. Queste due. Sempre di action. In un set da sette maschere. Una per ogni giorno. Sì. Set di sette pezzi. Viso. Questa azzurra. Mi lasciava il viso appiccicoso. E questa a verde. La pelle rimpolpata. Poi. Quest'altra. Sempre presa da action. Non ho scritto niente. Ma queste di. Questa serie qua. Mi ricordo che mi piacciono. Poi. Ah. Qui un campioncino. Di crema di Nuxe. Crema per il viso. Che l'avevo aperta. Perché mi serviva. Una crema bella nutriente. Ma. Ho ricordo che non era niente di che. E niente di super nutriente. Poi. Questa di Giada. Che mi aveva regalato mia cugina. Se non sbaglio. Ecco. Qui ho scritto. Buona rimpolpante. Non appiccicosa. Questa verde. È idratante. E questa gialla. È sfogliante. E illuminante. Comunque mi sono piaciute tutte e due. E poi. Un'ultima di action. Che anche questa serie qua. Le ho provate tutte. E mi piacciono. Ecco qui. Vedete. Meno male che ho diviso il video in due parti. Perché ho fatto solo viso e capelli. E siamo a 20 minuti. E passa. Queste erano le ultime cosine. Io vi ringrazio di aver visto il video. E ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.